Questo è il mio ultimo progettino con l'Arduino. Qui abbiamo l'Arduino collegato a una breadboard con un display che ci serve per capire cosa sta succedendo, collegato a un ponte ad H che a sua volta alimenta per mezzo di un pacco batterie ausiliario questo motore passo passo che è in grado di spostare sull'asse, lungo l'asse questo carrellino sopra cui è montato un servo motore connesso questa volta direttamente all'Arduino con i due pin d'alimentazione e quello di controllo. Qui abbiamo un computer in cui è in esecuzione una copia di Reactivation che è un programmino per Linux che poi è stato portato anche per Mac e Windows in grado di riconoscere questi segnalini qui chiamati FidoShell, li riconosce e li scrive su un socket UDP alla porta 3333 come vedete lì e questo attraverso un programmino che ho scritto io in Java che è qui sopra vengono scritti sulla porta seriale e quindi mandati all'Arduino. In particolare il risultato che si vuole ottenere è nel momento in cui si piazza un segnalino davanti allo schermo ottenere la rotazione dello stesso esattamente come faccio davanti la webcam e anche una traslazione sull'asse X, ora è al contrario perché dovremmo vederlo dall'altra posizione però, una traslazione sull'asse X equivalente. quindi qui vediamo se riesco ad inquadrarlo il carrellino che si sposta e il segnalino che ruota nel frattempo tutti i dati vengono mandati attraverso la seriale, infatti ecco qui che vengono scritti, si non si legge niente ma ok, questo è quanto, ciao ciao Grazie